scusate un attimo un attimo ancora che mi giro ecco qua lui è bruno ultra trailer francese il nostro sguardo soggettivo alla ultra trail de mont blanc 2017 cammina in mezzo ad altri 2.500 trailer sono i primi metri di 171 chilometri da chamonix a chamonix correndo intorno al monte bianco nella sua parte francese italiana e svizzera con passaggi oltre i 2.500 metri di quota e 2.000 volontari sul percorso e l'utmb distribuirà come ogni anno grandi e contraposti stati d'anno la gioia estrema e più forti al mondo l'estrema delusione a chi ci ha provato senza riuscirci guarder s'il va clacsoner Sì 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 È calata la notte Le luci frontali illuminano la carovana di trailer che sembra infinita Il freddo in quota è un diabolico nemico A Saint-Gervais il pubblico aspetta gli atleti Qui ci si ferma qualche minuto per bere, integrare e ripartire La temperatura percepita è di meno di 10 gradi E nonostante tutto intorno sia severo La fatica va esorcizzata Sì 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 Bruno e la pancia della gara sono circa a metà del percorso Prossimo traguardo, Courmayeur, dove i trailer recuperano le loro sacche e possono cambiarsi Gli 80 chilometri di Bruno sono stati lunghi 14 ore e 50 minuti Il cuor di nuì fa freddo e il stomaco non piace molto Il pezzo si blocca Allora, buon appetito! Sì 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 Pioggia Neve in quota Freddo pungente Condizioni proibitive che fiaccano centinaia di runner Ma non i superlativi Il counter su Chamonix segna 19 ore Quando esulta e giuisce al passaggio degli eroi dell'ultratrail del Monte Bianco 2017 La loro gioia e il clamore della festa stridono con il silenzio e la delusione di Bruno Che al centodecimo chilometro è costretto ad abbandonare L'ultratrail del Monte Bianco continua a essere un garone a dir poco cattivo e assieme al sogno di Bruno è sfumato anche quello di altri 850 atleti Costretti al ritiro Come una medicina aspra Che però se ce la fai a ingoiarla Fa tanto bene Per 1686 trailer la medicina diventa dolce E l'UTMB è una festa La festa per cui vale la pena un anno di preparazione E poi 171 chilometri di fatica estrema sul perimetro aspro e stupendo del Monte Bianco Il nostro è il nostro è nata No Ma 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 Grazie per la visione!